300 morti in città, quindi il Covid ha picchiato duro anche a Udine. Picchiato duro soprattutto in questa ultima parte, prima parte del 2021 e l'ultima parte del 2020, quindi il fatto è grave perché i morti ci sono stati e purtroppo è un numero significativo. La prima parte del Covid, mi riferisco al 2020, insomma febbraio, marzo, aprile, Udine era stata risparmiata come numero di decessi, purtroppo in questa fase, soprattutto anche adesso, abbiamo un numero molto alto di decessi e questo crea preoccupazione, soprattutto questa cerimonia che si fa in tutta Italia, è la manifestazione di vicinanza nei confronti delle famiglie che hanno subito questi gravi lutti con la perdita dei propri cari. Sindaco, che alla luce anche del numero dei contagi che continua ad aumentare, soprattutto in provincia di Udine, punta a non mollare la presa? Non bisogna mollare, bisogna continuare con le regole che ormai conosciamo tutti, quindi questo è fondamentale per contenere questa pandemia che purtroppo è ancora presente proprio qui nel nostro Friuli centrale, con tanti casi e purtroppo ancora con troppi morti.